Conferenza regionale della pesca marittima e dell'acquacoltura questa mattina a Pescara, alla presenza dell'assessore Dino Pepe. Obiettivo dell'incontro, il rilascio di tre pareri relativi ad altrettante richieste di concessioni demaniali marittime per realizzare allevamenti di mitili nei tratti di mare antistanti ai comuni di Rosetto degli Abruzzi e di Martinsicuro. La conferenza a parere solamente consultivo, poi sarà il Dipartimento del Turismo a concedere eventualmente la concessione alle imprese che ne hanno fatto richiesta. Il passo successivo sarà quello dell'approvazione dell'assessorato al turismo, visto che le aree in questione rientrano nelle cosiddette aree protette. Una antistante il comune di Rosetto con la riserva del Borsacchio, l'altra a Martinsicuro davanti a un'area tutelata per la riproduzione del fratino. Nella nostra regione attualmente sono in esercizio sei impianti di questo tipo, altre regioni del centro nord Italia hanno sviluppato molto gli impianti di acquacoltura anche perché la nuova politica europea sulla pesca investe molte risorse sugli impianti di acquacoltura.